5, 4, 3, 2, 1, vai Co, vai! 30, stai a sinistra per destra 3, 50 e stacca a destra 1 tornante, occhio non stringere troppo eh, non stringere troppo 30, sinistra 1 tornante, non sporcate troppo eh, in accenno destro, 30, sinistra 4, diventa 3, re, tieni tanto, diventa 3, re, tieni tanto in subito a destra 1 tornante, non stringere qua eh, assolutamente, stai a sinistra, 30, in destra 5, 40 a sinistra 3 qui, questa qui, per destra 6, lunga, 50, stacca a destra, 2 butta fuori, occhio qua eh 50, stai a sinistra per destra 4 si apre, 4 si apre 50 sinistra 6, lunga, occhio spigolo alla fine, occhio spigolo alla fine, 40, c'è uno destro e stacca a sinistra, 3 lunga pela, 3 lunga pela, 30 sinistri 40, per destra 3 si sporca, 3 si sporca in subito sinistra 5, per destra 5 si sporca che scende in sinistra 5, 30, la pianta, destra 3, doppio si, 3 doppio si sinistra 3, 30 sinistri alla casa sinistra 4, 80, destra 5 diventa, destra 4 lunga, per sinistra 3 lunga, diventa destra 4 lunga, per sinistra 3 lunga e stacca a destra 1 tornante 20, destra 3 si, in centro sinistra e stacca a sinistra 2 tornante, è qua 20, in sinistra 4, così, 30 a sinistra 5, per destra 5 apre, in sinistra 6 media, non esagerare, 30, stacca a ritardo, per destra 3 lunga e lascia in sinistra 3 lunga, gira, tieni, 3 lunga, gira, tieni, 30, destra 3 lunga, apre 4, apre 4 30, sinistra 5, 50, ritardo a sinistra 4 lunga, gira, ritardo a sinistra 4 lunga, gira, per l'accenno destro 50, destra 6, 30, stacca a destra 2 media il sinistra 4 all'8 destra 2 media il sinistra 4 all'8 30, sinistra 5 30, ritardo a ritardo, e stacca a sinistra 3 100, la siepe destra 4 lunga, in sinistra 3 gira destra 4 lunga, in sinistra 3 gira 30, destra 4 diventa 3 gira 4 diventa 3 gira, questa per sinistra 5 per sinistra 5 in subito destra 3 media per sinistra 4 30 sinistra 5 40, stai a sinistra per destra 5 in sinistra 5 lunga, lunga, sudosso 5, 5, lunga, lunga, sudosso 40 sinistri in sinistra 6, coraggio 100 sinistra 6, vola occhio qui, ecco perché se l'abbiamo toccato 50 sinistra 6 per destra 6 50, c'è lo sinistro stacca a destra 2 tornanti 80, stacca a sinistra 2 tornanti veloce tornanti veloce tieni la fine, è qua 100, stop qua eh, mi dispiace tu eh, mi dispiace cosa? eh, non è da me cosa stai cazzata no, vabbè aspetta, aspetta che non frena no, vabbè grazie a tutti